Buongiorno a tutti, sono Sira Miola, vicepresidente EISI, Ente Italiano Sporti Inclusivi, che è stato riconosciuto nel 2019 dal Comitato Paralimpico Italiano. Oggi ho davvero un grande piacere di presentarvi un caro amico, Fausto Cappellini. Eccolo qua. Buongiorno Fausto, come stai? Tutto bene? Buongiorno a te. Allora, chi è Fausto? Fausto è un grande amico, ma è un grande insegnante di educazione fisica, che ancora oggi, nonostante sia in pensione, si dedica allo sviluppo degli sport inclusivi. Lui ha insegnato per tantissimi anni alla Virgilio e la sua esperienza lo ha portato durante appunto questo percorso in questa scuola a far nascere questa bellissima creatura che noi conosciamo come Baskin. Quindi, Fausto, ci racconti come hai fatto a far nascere questo bellissimo sport? Allora, cercherò di essere sintetico, perché quando parlo dagli inizi, poi mi dilungo, perché la storia è veramente infinita. Ormai sono più di vent'anni che stiamo lavorando sul Baskin. Il Baskin è nato, ha iniziato i suoi primi passi nel 2001, come dicevi tu, appunto, nella scuola dove insegnavo io, nella scuola Media Virgilio di Cremona. Ed è iniziato con una piccola scommessa, una scommessa fatta da un genitore e da un insegnante di educazione fisica, che ero io, che per motivi diversi, entrambi volevano trovare delle soluzioni per includere delle persone con disabilità in uno sport. Per fare in modo che le persone con disabilità potessero prendere parte ad uno sport, ma ad uno sport nel quale potessero prendere parte anche altre persone. Perché altrimenti si sarebbe ricalcata la storia della disabilità che gioca con la disabilità, fa sport con la disabilità, si confronta con la disabilità, ma mai viene a contatto dal punto di vista sportivo o comunque motorio. con persone considerate normodotate. Quindi è stata un po' una scommessa. Non sto lì a ricordare tutti i passaggi perché ce ne sono stati tanti, alcuni anche un po' dolorosi perché abbiamo dovuto lasciare per strada alcune persone che all'inizio ci avevano dato qualche suggerimento importante, poi pian piano si sono perse perché le nostre strade volevano prendere una direzione diversa che era appunto quella dell'inclusione totale. Quindi non solamente dell'inclusione di una persona o due con disabilità e neanche la strada di organizzare delle attività in cui le persone considerate normodotate facessero un po' da portaborse, da supporto, perché questa cosa a me personalmente disturbava in una maniera terribile, cioè vedere le persone normodotate che ancora una volta all'interno di una palestra, all'interno di un gioco, assistevano persone con disabilità, era ricalcare quello che succede sempre fuori dalla scuola, dentro la scuola, al lavoro, eccetera, eccetera. Bisognava cambiare un pochino, cioè bisognava fare in modo che le persone con disabilità potessero avere una loro dignità insieme a noi, insomma, in sostanza. E quindi abbiamo cominciato con un gruppettino di dieci ragazzi, mi ricordo mi pare cinque persone con disabilità, i nostri figli, perché la cosa è maturata sugli spalti di una palestra, nella quale un figlio di Antonio e mia figlia giocavano a basket insieme, ed è maturata lì, per cui basket, canestri, eccetera, eccetera. E quindi niente, ci siamo trovati ad organizzare un gruppettino, io ho chiesto al preside se era possibile, e se soprattutto era possibile che un genitore potesse entrare nel discorso scolastico, il preside me lo ha concesso, abbiamo organizzato un gruppettino, cinque ragazzi, i nostri figli, e abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo cominciato a lavorare su delle attività le più disparate, ma quasi subito ci siamo orientati nell'utilizzo dei canestri, perché abbiamo visto che i canestri erano veramente una cosa che attraeva, non tanto il canestro, magari quello alto, eccetera, ma qualsiasi tipo di cesto nel quale si potesse buttare dentro un pezzetto di carta. Mi ricordo che i ragazzi arrivavano, avevano una pallina in mano, la buttavano nel cestino della carta, e quindi lì riuscivano a farlo, per cui abbiamo utilizzato questo impianto, abbiamo costruito dei canestri, abbiamo costruito dei canestri molto grandi, per consentire anche ad altre persone di riuscire a buttare dei palloni, dalle palle, in qualsiasi modo, in questi canestri, e poi piano piano abbiamo cominciato a mettere qualche regola. Poi abbiamo visto però che i ragazzi con difficoltà avevano timore, paura, quando arrivavano verso il canestro tradizionale della pallacanestro, perché in palestra c'erano i canestri tradizionali, avevano paura, timore, timore del contatto fisico, paura di farsi male, non avevano mai affrontato situazioni di quel genere lì. Per cui a un certo punto ci è venuta l'idea di mettere degli altri canestri ausiliari sul lato lungo della palestra e lì si è aperta la strada, si è aperto il mondo, si è aperto lo spazio. Abbiamo creato delle aree, zone franche le abbiamo chiamate, in cui le persone con particolari difficoltà potevano stazionare senza il problema di contatto fisico, senza la paura, ma nello stesso tempo con la possibilità di dire, beh, quando mi arriva la palla io voglio tirarla in quel canestro lì. E lì abbiamo cominciato. Poi ci abbiamo messo delle regole, le abbiamo tirate via, ne abbiamo messe delle altre. Abbiamo ascoltato anche i loro suggerimenti, che ci dicevano, ma forse io riesco a fare questa cosa, riesco a farla meglio, l'altra mi viene meglio, per me è meglio questa cosa qui. E questo per me, a me viene meglio questa cosa qui, ci ha fatto pensare per dire, se a te viene meglio quella cosa lì, vuol dire che ad un altro viene meglio un'altra cosa. E allora per ognuno di voi dobbiamo mettere in piedi delle situazioni. Mi ricordo che all'inizio avevamo addirittura creato delle tabelle nelle quali mettevamo i miglioramenti, il numero dei palleggi, il numero dei passi, il numero dei passi di corsa che un ragazzo faceva, il numero dei tiri se tirava in alto, in basso. Cioè avevamo fatto delle tabelle di questo tipo, per cercare appunto il miglioramento, perché io sono comunque un insegnante e quando vai in palestra e che hai di fronte delle persone e devi dire, io cosa ci faccio qui? Li faccio solo giocare, do la palla e li faccio giocare o voglio costruire qualcosa? Ma anche per me personalmente, se li do la palla e li faccio giocare io mi sento nessuno e quindi non mi piace, non è giusto, non è corretto, per cui in palestra bisognava lavorare. E quindi niente, abbiamo cominciato, il primo anno come ripeto erano 11-12 ragazzi mi pare, il secondo anno si sono raddoppiati e quindi abbiamo fatto due gruppi, il terzo anno sono triplicati e poi pian piano uscivano dalla scuola media, uscendo dalla scuola media mi dicevano, professore ma io voglio giocare ancora a baschi, come faccio? E' vero, e lì siamo stati in difficoltà, avevamo un gruppo piuttosto numeroso, eravamo arrivati addirittura a fare tre gruppi, per cui ci incastravamo in palestra in maniera... e l'idea che ci è venuta era quella di contattare delle società sportive della nostra città che a noi sembravano più sensibili sul tema della disabilità. E quindi abbiamo contattato società di oratori, società che facevano anche altri tipi di sport, società di palacanestro, per cui poi alla fine con un po' di, come posso dire, erano un po' restie insomma all'inizio. Poi pian pianino si siamo riusciti a trovare quattro società e da lì abbiamo cominciato al di fuori della scuola a fare un piccolo torneino, il primo torneino con quattro squadre. Beh da lì è stata un'escalation e tu sai benissimo come dopo vent'anni da quelle quattro squadre dopo vent'anni ci sono più di 150 squadre iscritte ai vari campionati in tutte le regioni d'Italia. Questo indipendentemente dalle nostre capacità, perché evidentemente siamo andati incontro ad un bisogno, c'era proprio il bisogno da parte non solo delle persone con disabilità, ma anche da parte delle persone normodotate di entrare in questo mondo, di capire le altre persone, di avvicinarsi alle altre persone e quindi insomma è stata un'escalation straordinaria. Beh veramente incredibile, sono felice che tu ci hai raccontato i primi passi di questo bellissimo sport, io li conosco ma ogni volta che li ascolto è un rivivere quei momenti anche da insegnante e credo che per te sia stato davvero un grande percorso didattico educativo e metodologico, infatti il basking non solo è uno sport ma anche una metodologia di insegnamento. Quali secondo te sono quelle peculiarità specifiche di questo sport? Quale sia il valore secondo te, il valore aggiunto di questo sport? Innanzitutto è uno sport e questo dobbiamo dirlo, ed è uno sport di squadra, perché quando due compagini si incontrano danno vita ad uno sport inevitabilmente e questo è stato anche riconosciuto dal CIP che ha assegnato il basking un codice per essere sport a tutti gli effetti, quindi adesso il basking è uno sport a tutti gli effetti, certo non è uno sport tradizionale, è uno sport atipico, perché è atipico? Perché non è stato preso uno sport, sono stati inseriti persone con disabilità, uno sport tradizionale, sono stati inseriti delle persone con disabilità per dire facciamo integrazione, non è stata questa la strada, la strada è stata invece quella di costruire uno sport attorno alle competenze, alle capacità delle persone, questa è stata secondo me la vera innovazione, cioè uno sport che si costruisce da solo in relazione alle persone che vi partecipano e questa è stata una cosa bellissima, il CIP un po' l'ha recepito ed è per questo che ha dato appunto il codice per dire state svolgendo uno sport reale, ma una cosa, un valore che mi piace rimarcare più di ogni altra cosa è che l'aspetto sportivo e l'aspetto relazionale si intrecciano in maniera straordinaria, cioè non c'è solo l'aspetto sportivo e non c'è solo l'aspetto relazionale, insieme danno vita ad una vita particolare, a dei momenti particolari, perché secondo me questo sport è uno sport che dà la possibilità di accesso a tutti indipendentemente dai fattori umani, quali sono i fattori umani? I fattori umani sono il peso, l'altezza, l'intelligenza, la capacità intuitiva, le capacità motorie, la sensibilità, lo sviluppo dei sentimenti, ecco tutte queste cose messe insieme danno vita a questo sport, per cui non c'è più solo l'aspetto sportivo della vittoria, della sconfitta, ma c'è anche tutto questo intreccio che mi piace tantissimo. Io ti dirò la verità, personalmente mi piace di più questo intreccio che neanche la vittoria, perché a scuola noi non tendiamo alla vittoria, tendiamo a qualcos'altro ed è questo che mi piace molto di questo sport. E poi perché, ripeto, ha incontrato veramente il bisogno delle persone, insomma. Fortunatamente siamo andati incontro dei bisogni, perché le persone a scuola, soprattutto a scuola, i ragazzi a scuola sono pieni di bisogni e si rivolgono a noi perché noi vogliamo soddisfarli, molto spesso siamo fallimentari e tante volte riusciamo ad entrare un pochino in questi loro bisogni e dare loro un valore estremamente diverso. Ecco, questo secondo me è stata una cosa molto bella che il Baschini è riuscito a portare, non solo nella scuola, ma poi anche all'esterno. Bene, da insegnante, da collega, io ti ho conosciuto nel 2013 a un corso di aggiornamento. Pensare a qualcosa di diverso, perché mi aveva ispirato il Baschini a una metodologia diversa, per cui quello che ti chiedo, qual è secondo te nel Baschini il valore pedagogico che trasmette durante l'attività nella scuola? Secondo me il Baschini a scuola sta superando un problema da sempre presente nell'educazione fisica, cioè il coinvolgimento di tutti coloro che per svariati motivi, genetici, fisici, psicologici, eccetera, non provano piacere o non si mettono in gioco nel praticare un'attività sportiva, motoria o sportiva. Continuiamo a dire che lo sport fa bene, che l'attività motoria fa bene e poi alcuni si autoescludono perché pensano di non essere in grado di farlo, eccetera, eccetera. E noi dovevamo dare motivazione a queste persone, perché se fa bene, fa bene a tutti, fa bene anche a loro, fa bene solamente a quelli che nascono e che si sviluppano, che diventano due metri e dieci e poi vanno a giocare in nazionale. Cioè, fa bene a tutti. Quindi dovevamo dare delle possibilità. Insomma, questa è secondo me uno dei grandi valori che ha portato questo tipo di attività nella scuola. Il fatto che finalmente in palestra, se li hai tutti e tu lo sperimenti giorno per giorno, me lo dici continuamente, l'hai sperimentato, io li faccio giocare tutti. E tutti si divertono. E tutti hanno il piacere di farlo. Anche chi è in carrozzina. Anche chi ha una tetraparesi spastica. Anche chi è autistico. Anche chi è down. Questa è la bellezza della scuola. La scuola accoglie tutti. Ma poi, dopo averli accolti, cosa fa? Metterli insieme in qualche modo. Ma metterli insieme in maniera costruttiva, in maniera positiva. Perché la scuola è l'ambiente educativo per eccellenza. C'è la famiglia, c'è la scuola e poi c'è l'extra scuola e l'extra famiglia. Ma noi sappiamo che a scuola i ragazzi ci stanno tanto tempo. Molto tempo della loro vita la passano a scuola. La loro vita iniziale la passano a scuola. E quindi la scuola è evidente che deve lasciare qualcosa a questi ragazzi. Deve dare qualcosa. Deve dare delle impronte a questi ragazzi. E quindi dal punto di vista dell'educazione fisica e dell'aspetto motorio questo secondo me è stata una cosa eccellente. L'alto valore pedagogico è proprio il fatto che finalmente tutti nel campo di palacanestro, nella palestra, possono giocare, divertirsi, stare insieme. Ma non solo stare insieme, ma capire il valore delle persone che apparentemente hanno meno valore. E dare valore ai ragazzi piace essere cercati. A scuola i ragazzi vogliono essere cercati, vogliono essere qualcuno. E invece c'è sempre gente che ha il capocchino, perché ha delle particolarità e delle peculiarità che si discostano dalla normalità. Invece no, invece anche questi hanno il piacere di essere cercati. E nel Baskin, guarda caso, nel Baskin vengono cercati perché portano fieno in cascina, perché portano punti, perché mettono tutte le loro capacità, le loro competenze a disposizione per poter far migliorare la propria squadra. E vengono cercati. Ma questa è la cosa bella. Ma un ragazzino down, da chi viene cercato? Spesso va a giocare con i compagni che hanno sindrome di down come lui. Viene cercato da persone che magari schiacciano nel canestro. E anche coloro che sono in carrozzina. Vengono cercati. Dai, io ti do la palla perché so che tu ti stai allenando per buttare la palla nel canestro. E ce la fai. E mi porti avanti con il punteggio. Beh, questa è una cosa straordinaria. Il fatto che tutte le persone vengono cercate per le loro peculiarità è una cosa, per me, straordinaria. È il senso della vita, ragazzi. Questo è il senso della vita. Concordo, guarda, lo vivo tutti i giorni. Anche adesso, come te, sono in pensione e mi sto adoperando tanto per poter portare questa idea nelle scuole proprio perché ho visto il cambiamento nei ragazzi. Nei ragazzi non solo con disabilità, ma soprattutto nei ragazzi che, così normotipo, loro non hanno mai avuto queste esperienze. e con il busking arrivano ad avere un contatto talmente forte, diretto e proprio empatico con tutti i compagni. Quindi veramente interessante quello che si può vedere dal busking. Ma sappiamo che ti sei tanto anche così dato da fare per portare il busking all'interno del Comitato Paralimpico. Quindi vorrei che tu raccontassi anche questa esperienza, che è stata un'esperienza un po' di un gruppo, però che poi ha avuto il suo grande risultato, l'accoglienza in questa grande famiglia che è il Comitato Paralimpico italiano. Ecco, puoi raccontare un po'? Allora, io sono entrato nel Consiglio Nazionale del Comitato Paralimpico come rappresentante delle associazioni benemerite, perché allora il busking era un'associazione benemerita. E quindi sono stato, fra virgolette, eletto come rappresentante delle associazioni benemerite all'interno del Consiglio. E allora ho cominciato a esprimere qualche concetto riguardante il busking, perché appunto io facevo parte dell'associazione busking, e sui concetti che sottengono a questo sport. concetti inclusivi, ovviamente con un certo garbo, perché ho incontrato anche persone particolarmente sensibili a queste mie esternazioni, diciamo così, e anche qualche provocazione. Una di queste, la devo nominare per forza, e fra l'altro è Veneto, è Remo Breda, è una di quelle persone che ha capito il senso delle cose, e che ha capito perfettamente il senso di queste cose, e all'interno della giunta del CIP portava avanti queste peculiarità. Quindi io devo ringraziarlo tantissimo, noi dobbiamo ringraziarlo tantissimo, perché ci ha dato una grossa mano a far sì che pian piano si aprisse qualche spiraglio. E l'Eisi è riuscito a mandare un proprio rappresentante nel Consiglio del CIP. Chi è questo rappresentante? È la Siramiola, che è vicepresidente, e quindi ha tutto il diritto di entrare nel Consiglio nazionale. Nel 2019 il basking ha fatto in modo che nasca l'Eisi e fosse riconosciuto dal Comitato Paralimpico. Ma oltre al basking si è presentato l'Eisi con altri sport, di cui noi non abbiamo ancora accennato e vorrei che tu ci parlassi, anche perché tu sei davvero uno delle anime che hanno prodotto altri, ti hai fatto generare altri sport. Quindi raccontaci un po' quali sono, su cosa stai lavorando, perché ovviamente tu sei un creativo, quindi senza di te questi ultimi sport non ci sarebbero, perché ti sei impegnato tantissimo. Quindi raccontaci un attimo di cosa stiamo parlando. Guarda, l'Eisi è nato con una condizione, non doveva avere al suo interno solamente uno sport, perché altrimenti non può essere un ente di promozione sportiva, e quindi abbiamo cercato di capire cosa si poteva fare. Quindi abbiamo inizialmente incluso all'interno dell'Eisi anche il calcio balilla inclusivo e la ginnastica inclusiva. Allora, per quanto riguarda la ginnastica inclusiva, ci siamo inventati letteralmente una pedana particolare, nella quale potranno esibirsi non solo persone con disabilità e quindi in carrozzina, ma anche persone normodottate. Quindi stiamo studiando ancora le modalità più opportune per fare in modo che tutti possano avere la loro collocazione e il loro ruolo all'interno di una squadra che si esibisce per fare determinate figure ginniche, perché poi la ginnastica si basa su determinate figure ginniche. Il secondo sport è il calcio balilla. Abbiamo preso un calcio balilla, stiamo utilizzando un calcio balilla che utilizzano anche coloro che fanno calcio balilla per persone con disabilità, per poterci farci stare una carrozzina, ma una carrozzina sola, perché poi, come nel baskin, ci sono vari ruoli e questi ruoli dovranno giocare insieme. C'è il ruolo di chi ha la carrozzina, c'è il ruolo invece di chi ha peculiarità diverse, che fa fatica comunque anche lui magari a tenere in mano le stecche, c'è chi invece è bravissimo a giocare a calcio balilla. Abbiamo anche lì modificato l'impianto, abbiamo costruito delle maschere e questo devo ringraziare Antonio, lui è un ingegnere e quindi quando c'è qualche strumento da costruire, Antonio pensaci tu, ha costruito delle maschere da mettere nelle porte in modo che restringano leggermente la porta, perché il ruolo del portiere viene giocato da persone che non hanno una loro autonomia e che magari possono muovere leggermente solamente una manina o un braccio. Quindi abbiamo costruito anche, Antonio ha costruito una manopola particolare, ma ognuno potrà costruirsi le manopole più adatte per poter fare in modo che persone con difficoltà possano fare il portiere. Abbiamo provato, abbiamo sperimentato, abbiamo messo delle regole, siamo arrivati alla seconda revisione, quindi abbiamo già aggiunto altre cose perché sperimentando trovi delle soluzioni che prima non ti erano sott'occhio e quindi anche questo sta andando verso una direzione. Sono già alcune regioni che hanno chiesto di poter giocare a calcio valilla e che hanno chiesto il regolamento che stanno attrezzandosi per sperimentare. L'ultima nata recentemente è la boccia inclusiva. L'ho chiamata boccia inclusiva perché è un gioco che si differenzia dal gioco delle bocce, utilizza delle bocce, ma utilizza le bocce della boccia paralimpica, utilizza uno strumento che è lo scivolo della boccia paralimpica, ma poi utilizza anche altri strumenti. Per esempio c'è un ruolo nel quale i giocatori devono tirare le bocce con le arti inferiori. Quindi abbiamo costruito dei ruoli, ovviamente, tipo baskin, per cui anche questo adesso ha preso una forma piuttosto particolare. Ci abbiamo lavorato sette mesi, non abbiamo sperimentato due volte, ci abbiamo lavorato sette mesi con l'aiuto di educatori, con l'aiuto di giocatori di bocce, con l'aiuto di volontari e soprattutto con l'aiuto dei ragazzi, che ci dicevano, ma io riesco a fare questa cosa, posso fare, certo che puoi farla, se ci riesci la puoi fare. Abbiamo messo in campo anche lì un regolamento che è stato recentemente passato al vaglio dalla Commissione Formazione, poi passato e approvato dal Consiglio dell'Eisi, per cui adesso è uno sport ufficiale all'interno dell'Eisi e si apriranno tutti gli spirali che si potranno aprire. Ecco, la nostra chiacchierata finisce qui, ma io starei qua ancora un bel po' perché mi piace un sacco sentirti parlare, sentirti ragionare, come l'entusiasmo, come lo trasmetti tu, ce ne sono pochi. Quindi io spero che tanta gente possa capire lo sforzo che sta facendo questo ente, il nostro ente italiano Sport Inclusivi, nel tentare di riproporre le caratteristiche del basking anche in altri sport, proprio per far giocare tutti, per rendere accessibile a tutti, veramente a tutti, uno sport. Ma comunque è perché anche il Veneto ha capito e sente proprio questa, sente questo sport come uno sport suo e proprio per questo anche questa volta si è candidata a Isola Vicentina ad accogliere il campionato nazionale. Il primo campionato Eisi di fatto è, diciamo, il quinto, ma in realtà Cunesi è il primo. Quindi noi siamo orgogliosissimi di poter accogliere tutto il mondo basking in queste giornate 24, 25 e 26 giugno. Non vedo l'ora perché sarà una grande festa di sport, ma di sport per tutti, nel vero senso della parola. Fausto, io ti ringrazio tanto, mi emoziono sempre quando ti vedo e ti sento, quindi spero che anche chi ti ha sentito oggi, possa avere le stesse sensazioni. Quindi grazie infinite e a presto, a prestissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao, buonasera. Ciao. Grazie a voi. Grazie a voi.